All'evento nell'evento a Fiera Sicurezza 2019, qui nello stand di Politec, Dario Strano, amministratore delegato Strano S.P.A. Distributori si nasce, a valore aggiunto si diventa? Beh, distributori si nasce perché il mercato ti porta a fare una scelta se installare o vendere il prodotto. La domanda poi nasce come vuoi vendere il prodotto, il prodotto venderlo di per sé è facile, dare un valore aggiunto per valorizzare, far crescere un prodotto risolvendone anche i problemi e risolvendo i problemi dell'installazione, quello è il passo successivo e di fatto è anche la scelta che ti porta il mercato nel voler affrontare in un determinato modo oppure no. No, noi tanti anni fa abbiamo fatto una scelta molto importante, quella di non volere essere considerati dei meri distributori ma essere dei partner per vendere oltre al semplice prodotto anche dei servizi correlati allo stesso ed ecco che abbiamo venduto il servizio. Benissimo, qual è la sinergia che vi lega Politec? Una sinergia totale a 360 gradi. Noi non consideriamo Politec come un semplice produttore di un prodotto finito, quanto un partner per affrontare giornalmente le problematiche del mercato, con cui poterci confrontare giornalmente e poter studiare in ogni momento della giornata e dell'anno delle soluzioni e delle strategie per sia risolvere le problematiche commerciali che anche delle problematiche di capitolato e di servizio da parte dei nostri clienti.